L'immigrazione clandestina, bisogna bloccare l'arrivo di nuovi profughi e di nuovi presunti profughi, anzi clandestini sulle coste italiane, bisogna bloccare l'arrivo di queste persone. Non sappiamo chi sono, arrivano qua senza documenti e noi dobbiamo assolutamente, questo lo stiamo già facendo a Roma, dobbiamo impedire che arrivino altre persone in questo arrivo, soprattutto per motivi di sicurezza, perché non si sa chi sono, non si sa dove vanno, quando arrivano non si sa cosa fanno, magari girano, vanno a zonzo, poi spariscono, non si trovano più. E noi ci opponiamo assolutamente a questa cosa, sia a livello parlamentare che anche a livello regionale, sapete benissimo che c'è in corso una lotta per riuscire a bloccare gli arrivi di queste persone. Abbiamo un ministro degli interni, il ministro Alfano, soprattutto con i prefetti che sono la sua emanazione sul territorio, che stanno facendo di tutto per far arrivare queste persone e riuscire a metterle a più non posso all'interno delle nostre strutture pubbliche e anche private, perché purtroppo ci sono anche dei privati che con la storia che percepiranno, 35 euro clandestino al giorno, hanno deciso di ospitare, di aprire le loro strutture per ospitare queste persone. Ribadiamo alla nostra assoluta contrarietà, chiediamo al prefetto la prossima volta di prendere, e soprattutto al nostro sindaco, di prendere una posizione contraria all'arrivo di nuovi clandestini. Siamo riusciti provvisoriamente con questo presidio a bloccare l'arrivo di nuovi clandestini presso le nostre strutture, ma ho sentito che ne arriveranno ancora nei prossimi giorni direi, neanche mesi, nei prossimi giorni. funzionari per verificare che ci sia la possibilità di non dare soldi a quei comuni che fanno queste cose, a quei comuni che spendono soldi per i clandestini e magari non li spendono né per i loro disoccupati, né per gli esodati, né per le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e quant'altro. Quindi questo è un impegno, non so se lo porteremo a casa, ma di sicuro lo sforzo va in questa direzione. L'altra cosa, io dico qui pubblicamente che quando il comune e il sindaco di Cremona ci chiamerà o mi chiamerà come consigliere regionale perché per n motivi veniamo chiamati, io non sono più disponibile per il sindaco di Cremona come per tutti quei sindaci della provincia di Cremona che ci chiedono aiuto e che poi fanno questo tipo di iniziative. Io non voglio essere un complice di questi collaborazionisti perché io li chiamo collaborazionisti di questa invasione. Scrivetelo pure perché questa è la mia parola. Grazie. Adesso la parola all'assessore regionale Simona Bordonari. Grazie. Invece improvvisamente le risorse le trovano ad una velocità quasi impressionante per la sistemazione di scuole, come in questo caso per l'accoglienza di clandestini. Ecco, Regione Lombardia non solo per il fatto di stabilità territoriale ma anche per i bandi quando dovrà mettere a disposizione risorse per i propri comuni, ovviamente andrà a dare risorse soprattutto per quei comuni che hanno realmente dei problemi, perché il comune di Cremona sta dimostrando che problemi economici non li ha. Anche perché abbiamo saputo che Renzi vuole agevolare il fatto di stabilità per quei comuni che accolgono clandestini, quindi Regione Lombardia andrà esattamente nella direzione opposta. Aiuterà soprattutto quei comuni che non accolgono i clandestini. Perché i dati ci dicono che coloro i quali fanno richiesta come richiedenti asilo, di asilo politico, di stati o di rifugiati, quella richiesta viene avvallata solo nel 10% dei casi, vuol dire che il 90% di loro sono clandestini. E sarebbero già clandestini se il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e il Nuovo Centrodestra non avessero abolito il reato di clandestinità. L'altro aspetto è che noi ci troviamo in una situazione dove sentiamo tanto parlare del sistema dell'accoglienza. Questo non è un sistema di accoglienza, questo è il business dell'immigrazione creato appositamente per far guadagnare qualcuno e qualcuno su questo business ci sta accampando. Io chiudo dicendo, visto che il Comune di Cremona è stato talmente celere e talmente bravo a intervenire immediatamente con i soldi dei cremonesi, invito tutti i cremonesi che hanno una situazione di disoccupazione, di stato sociale difficile, di difficoltà familiari, di difficoltà perché sono giovani che hanno studiato e non trovano un posto di lavoro, le giovani coppie che non riescono a sposarsi perché le banche non fanno il mutuo, andate in comune a Cremona dal sindaco e dal prefetto e chiedete loro di avere lo stesso trattamento di queste persone, di avere anche voi i vostri 40 euro al giorno. Questo è quello che noi oggi chiediamo e denunciamo. Ci hanno detto no perché non hanno i soldi. Io è questo che non capisco. Come mai per i nostri la risposta è no, non ci sono soldi e per gli immigrati i soldi ci sono. Noi siamo talmente, scusatemi il termine ma lo uso forte a proposito, siamo dei coglioni perché non si può che in Europa costruiscono i muri in Ungheria, l'Inghilterra dice di no, l'Austria ce li rimanda indietro, in Spagna li spara. Invece qua tutti. Per di più abbiamo il fenomeno Renzi che dice se l'Europa non ci dà una mano tanto facciamo da soli. Questa è la situazione. La cosa scandalosa che io purtroppo ho assistito questa settimana è che ci sono diversi comuni che chiedono proprio soldi perché accolgono i clandestini. Stiamo facendo il decreto enti locali e diversi comuni hanno chiesto questo. La cosa assurda è che momentaneamente noi siamo riusciti a fermare questi soldi a questi comuni, ma però Renzi gli ha già promesso che nella legge di stabilità gli darà questi soldi. È questo che non va. Quando invece noi abbiamo chiesto soldi per i comuni del Mantovano che hanno subito il terremoto e la risposta è stata no. È stata. Abbiamo chiesto soldi per la tromba d'aria nel Veneto che questi comuni sono stati quasi rasi al sole e la risposta cosa è stata? No. Noi è queste cose che non tolleriamo. Diverse persone, guardate anche quelli che si dicono buonisti, dicono poveretti eccetera. Però provate a chiedere loro, ma li prenderesti tu a casa tua? Ti dicono no. Il 90% ti dice no, non li prendiamo, che li prenda qualcun altro. Non va bene questa logica, non va bene. La logica come già anche l'Europa sembra, sembra che stia puntando a far capire all'amico dei comunisti eccetera, di far capire che queste persone, chi ha diritto benvenga, ma chi non ha diritto se ne deve tornare a casa. Sono dei migranti economici, se effettivamente si vuole fare qualcosa, si deve aiutare a casa loro. Noi non possiamo prendere, quanti sono? Pensiamo a tutta l'Africa, quante persone ci sono? A tutta l'Asia, quante persone ci sono? Li prendiamo tutti qua da noi? No, secondo Renzi sì. Tutti qua in Italia signor.